Ciao ragazze, bentornate sul canale di trucchi.tv Oggi sarà un primo video outfit della storia, credo forse anche l'ultimo Ma della storia tua o della storia in generale? No, della storia mia, della storia mia Si tratta di... sto urlando se la gente arrivi perché mi vergogno quanto un ladro Primo video outfit, forse anche l'ultimo, vi dicevo si tratta di un video, di un outfit pensato per un battesimo Di giorno e poi fino alla sera, abbastanza elegante Questo è quello che ho pensato io, spero che vi possa dare spunto, ispirazione, per chiudere il canale magari Sai che mi fai ridere, trema tutto E ricrevo il cameraman che non è il treppiede questa volta ma è una persona vivente Con dei sentimenti anche Con dei sentimenti e con un cuore che pulsa Con dei sentimenti e con dei sentimenti e con dei sentimenti Con dei sentimenti e con dei sentimenti e con dei sentimenti Grazie a tutti.